Mi trovavo qui, passeggiavo tranquillamente al piazza Grande, a un certo punto mi hanno fermato, mi hanno dato il volantino dicendomi che oggi si poteva fare il test dell'HIV presso l'informa Giovani, dato che non l'avevo mai fatto, volevo provare a farlo, anche a vedere, dovrei essere sano ma uno non sa mai fino in fondo se c'era oppure no finché non fa il test, quindi sì, sono in coda adesso per fare il counseling e poi il test.